Questa città si è impressa nel tuo cuore stasera? Sì, sì, devo dire un pubblico pazzesco di tanti giovani e mi ha impressionato il fatto che cantassero tutte le mie canzoni e che io stia rivivendo un momento così bello del mio percorso perché vedere tanti giovani cantare canzoni che ormai hanno cominciato a avere 30, 35, 40 anni è una grande soddisfazione, l'assicuro perché insomma poi, a parte le polemiche di questo periodo che sappiamo sulle nuove tendenze però poi la musica è bella tutta, quando è fatta col cuore, nuova, vecchia non esiste né musica nuova né musica vecchia, esiste la musica buona quando, insomma, mi auguro, non parlo per me, quando andava a fruitore evidentemente quando la musica arriva, ha delle emozioni certo, sicuramente questo è un momento in cui molte canzoni attuali non forse tra 30 anni non le ricanteremo questo non schifo a dirlo, qualcuna forse sì alcune, però la tendenza è un po' a usare un po' la musica un po' come quasi un jingle, capito? è un tormentone, quindi non so però i tempi sono quelli che sono, ce li prendiamo per come sono e cerchiamo di difendere il difendibile indipendibile quindi Grazie.